Buonasera e benvenuti al secondo appuntamento con le interviste Facebook Live di ANSA Agri-UE, il progetto di ANSA per raccontare le politiche agricole europee. Io sono Angelo Di Mambro, sono diversi anni che mi occupo di politica agricole europea e di comunicazione sulle politiche agricole europee. Ricordo che questo progetto ci vedrà coinvolti in interviste su diversi temi come l'innovazione, l'ambiente, i giovani, il rinnovamento generazionale, il settore biologico e la qualità intesa come competitività oltre che come tutela della tradizione. Vi ricordo che potete contribuire, potete interagire, potete inviare domande in questo lasso di tempo, saremo assieme circa mezz'ora, potrete inviare domande commentando l'articolo che è online su ANSA Agri-UE oppure il post sulla pagina di Facebook o ancora su Twitter usando l'hashtag Agri-UE. Adesso veniamo a presentare l'ospite che stasera è qui con noi, si tratta di Guido Castellano, vice capo unità della Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea. Si occupa di sviluppo rurale, adesso fra qualche minuto cominceremo proprio domandando che cosa fa, che cos'è lo sviluppo rurale e poi parleremo delle misure europee, delle misure che le politiche agricole europee mettono a disposizione per favorire il rinnovamento generazionale in agricoltura. Prima di tutto, Guido Castellano, da quanti anni più o meno in Commissione Europea? Ciao Angelo, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Io sono in Commissione Europea dal 1998, ho iniziato occupandomi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, con i paesi terzi e sono stato due anni in Tunisia alla delegazione della Commissione in Tunisia. Mi sono occupato di sviluppo rurale anche lì, in maniera più pratica e meno politica. E poi sono arrivato a Bruxelles nel 2001 e dopo quattro anni di lavoro come contrattuale sempre nell'ambito della cooperazione sono stato assunto dopo aver vinto il concorso all'agricoltura, alla DG Agricoltura, quindi dal 2005 sono funzionario lì. Sono passato per la valutazione ai programmi di sviluppo rurale, alle politiche di sviluppo rurale di cui adesso mi occupo ancora. Ecco, che cosa fa il Fondo Agricolo per lo sviluppo rurale? A che serve? Dunque, buona domanda. Il Fondo Agricolo per lo sviluppo rurale è il cosiddetto secondo pilastro della politica agricola comunitaria. Quindi siamo nell'ambito di una politica settoriale che si rivolge in maniera prevalente ma non esclusivamente agli agricoltori. Lo sviluppo rurale fa parte del pacchetto di politiche dell'Unione che vengono gestite in maniera condivisa, shared management, tra la Commissione europea e gli Stati membri. Quindi c'è una grossa componente di sussidiarietà da parte delle controparti degli Stati membri e delle regioni che attuano dei programmi di sviluppo rurale in favore del settore agricolo e della ruralità in generale. Su un lasso di tempo che copre il periodo di programmazione, quindi di solito sono sette anni, ed è un programma che ha uno scopo molto largo. Quindi lo sviluppo rurale si occupa innanzitutto di agricoltura, ma anche di ambienti, di cambiamenti climatici. Si occupa di zone rurali in senso largo, di comunità rurali, di villaggi rurali, si occupa di innovazione, di ricerca. Quindi con un'entrata di tipo agricolo è una politica che poi si apre alla ruralità più in generale, in senso più largo. È una politica cofinanziata dagli Stati membri, a differenza del cosiddetto primo pilastro della politica agricola comunitaria che per la maggior parte viene finanziata al 100% dall'Unione Europea. Ed è una politica che si inserisce, che interagisce con altre politiche strutturali di investimento dell'Unione Europea. Il fondo regionale, il fondo di coesione, il fondo sociale europeo e il fondo per la pesca. Ora, questo è un po' il cappello, un'introduzione. Sì, perché nelle politiche di sviluppo rurale, negli anni passati, le politiche di sviluppo rurale erano l'ambito privilegiato per le politiche che favorivano l'insediamento dei giovani agricoltori. Adesso qualcosa è cambiato con la riforma del 2013, ne parleremo fra qualche minuto. Prima però introduciamo il tema, rinnovamento generazionale in agricoltura. Perché è tanto importante che i giovani continuino a presidiare in qualche modo i territori rurali? Perché poi, insomma, se uno... Io credo che l'importanza dell'insediamento dei giovani, del ricambio generazionale, è legata all'importanza del settore agricolo in quanto tale. Il settore agricolo svolge una quantità di funzioni, direi, essenziali per la società nella sua interezza. Non è solo un'attività economica. L'attività agricola è legata a funzioni importanti nell'ambito, non so, della lotta al cambiamento climatico, della preservazione dell'ambiente naturale, della gestione efficiente delle risorse naturali, e anche nel dare beni di pubblica utilità alla società. E per questo c'è bisogno di operatori del settore che siano in grado di stare al passo con i tempi, di recepire, non so, l'innovazione, di essere in grado di attuare, di svolgere il loro mestiere in maniera adeguata a quello che viene richiesto. Da questo punto di vista i giovani agricoltori, o comunque le nuove generazioni, sono più, se vogliamo, più adatte a questo ruolo di salvaguardia anche dell'ambiente, eccetera. E quindi il cambiamento generazionale che noi come Commissione proponiamo ha come obiettivo quello di cercare di installare nel settore agricolo una nuova generazione di agricoltori competenti, qualificati, e che abbiano una performance superiore alla media dal punto di vista economico ed ambientale. E questo è quello che poi noi riscontriamo in pratica andando a guardare le statistiche di come si comportano gli agricoltori convenzionali rispetto agli agricoltori più giovani. Col problema che la fascia di agricoltori considerati giovani, quindi sotto i 35 o sotto i 40 anni, è ancora piuttosto bassa. Quindi noi tramite lo sviluppo rurale e altre politiche cerchiamo di... Ecco, questa tra l'altro è una tendenza che non è solo europea, è una tendenza che si registra in tutte le economie avanzate, dagli Stati Uniti, ma anche Australia, Nuova Zelanda, Giappone. Diciamo la vita rurale come se non fosse di appeal per un giovane. E questo ci riporta anche probabilmente al discorso dello sviluppo rurale come intervento sul territorio e sulla totalità della vita, della qualità della vita nelle aree rurali. Ecco, si registra, l'Unione Europea cerca di favorire l'insediamento di questa nuova generazione di agricoltori in diversi modi. Si vedono dei risultati, cioè si registra un'inversione di tendenza, un miglioramento della situazione secondo voi? Vabbè, innanzitutto il contesto è molto particolare, ci sono alcuni elementi di carattere puramente settoriale nel ricambio generazionale in agricoltura, alcuni ostacoli, alcuni limiti che sono profondamente legati al settore agricolo in quanto tale. C'è poi una componente invece più larga, come dicevi tu, legata alla ruralità, cioè legata al fatto di poter vivere in zona rurale con un livello di vita e con una qualità di vita comparabile con per esempio quello delle zone urbane, che non è sempre detto che avvenga in tutte le zone rurali di Europa. Quindi è particolarmente difficile da questo punto di vista spingere verso il rinnovamento generazionale e l'installazione dei giovani agricoltori. L'invecchiamento è una cosa che si registra in tutti i settori dell'economia, nella società anche in generale per fortuna, e in agricoltura il problema è che questo invecchiamento è più presente, più marcato rispetto agli altri settori dell'economia. Noi cerchiamo di stimolare attraverso una serie di strumenti questo ricambio generazionale. I risultati non sono del tutto visibili dal punto di vista delle statistiche, per i motivi che dicevo prima. Quindi se si guarda a Eurostat, al numero di giovani agricoltori attivi in agricoltura è più o meno stabile nel tempo. Ci si dovrebbe domandare però cosa sarebbe successo senza gli interventi dell'Unione Europea, quindi l'effetto netto della politica in questo caso è quello che conta. E credo che la situazione sarebbe molto peggiore. Ci sono sicuramente degli ottimi esempi, degli esempi di imprenditoria giovanile che è stata stimolata attraverso il finanziamento comunitario, le politiche dell'Unione, e anche in agricoltura in alcuni settori si vede un nuovo fermento, un nuovo installarsi di giovani. Io qualche giorno fa ho visitato un'azienda agricola qui in Belgio, un'azienda tra l'altro nel settore del latte, produzione del latte, che è noto in questo momento per essere un settore che va abbastanza, non il migliore dal punto di vista del rendimento economico. Invece c'era un giovane agricoltore che gestiva questa azienda con più di 100 vacche e più di 100 ettari di terra, come è un'azienda, in maniera completamente automizzata, quindi con droni, computer, macchine collegate al computer anche per nutrire gli animali, per fare la giusta dieta per gli animali, era veramente uno spettacolo. E tutto questo era stato fatto anche attraverso gli aiuti dello sviluppo rurale, gli aiuti di investimenti, l'insediamento per i giovani agricoltori, eccetera. E comunque va ricordato, sono sempre aiuti che in qualche modo vengono erogati sulla base non della richiesta ma di un dialogo che c'è fra le istituzioni europee e le istituzioni locali, le regioni nel caso dell'Italia, per dire. Se c'è un interesse da parte dello Stato nazionale, delle autorità nazionali, che possono essere le regioni o altro, a attivare alcune misure, a investire di più in alcune misure, questo si può fare, in alcune misure a favore dei giovani in questo caso. Sì, la politica di sviluppo rurale di fatto funziona, noi qui da Bruxelles stabiliamo il quadro generale, quindi di fatto gli obiettivi che si vogliono raggiungere a livello dell'Unione, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi e le regole per l'attuazione degli strumenti. Il resto poi è nelle mani, come dicevi tu, della nostra controparte, delle regioni e degli Stati membri che devono presentare un piano di sviluppo coerente rispetto ai fabbisogni locali del territorio. E quindi il menu di strumenti messo a disposizione dall'Unione Europea nel regolamento dello sviluppo rurale è poi utilizzato nella maniera più consona ai fabbisogni territoriali dalle regioni e dagli Stati membri. Anche perché, come dicevo prima, lo sviluppo rurale è una politica che si basa sul cofinanziamento, quindi c'è una parte di investimento diretto da parte sia delle regioni, degli Stati nazionali che dei beneficiari poi alla fine diretti dell'aiuto dello sviluppo rurale. Quindi anche gli stessi agricoltori investono. Quindi è giusto che gli strumenti vengano calibrati alle esigenze e ai fabbisogni del territorio. Io intanto ricordo a chi ci segue che potete inviare delle domande anche molto specifiche sulle misure che esistono a sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori ma anche nei pagamenti supplementari comunque che vengono promossi promossi dall'Unione Europea come incentivo anche a intraprendere una carriera che non è facile, bisogna dire. E ricordo che potete partecipare inviando domande commentando l'articolo che è online su Ansa AgriUE oppure il post sulla pagina Facebook oppure ancora su Twitter con l'hashtag AgriUE. Passiamo direi a parlare di queste misure concrete che ci sono. Quali sono gli aiuti che l'Unione Europea può dare a un agricoltore under 40 sotto i 40 anni sì, diciamo sotto i 40 anni perché dal punto di vista statistico si usa di solito il riferimento a 35 però dal punto di vista legislativo c'è un riferimento al 40 quindi diciamo sotto i 40 anni. Quali sono le misure concrete? Dunque ci sono finanziamenti in entrambi i pilastri della politica agricola comunitaria quindi c'è la possibilità per gli agricoltori già insediati di meno di 40 anni di avere un top up quindi un pagamento complementare aggiuntivo al pagamento diretto quindi all'aiuto diretto erogato dalla politica agricola comunitaria e per questo questo top up questa componente aggiuntiva è obbligatoria quindi i stati membri devono predisporre lo strumento e può prendere fino al 2% del valore globale a livello nazionale degli aiuti per il pagamento diretto degli aiuti diretti agli agricoltori nel secondo pilastro della PAC quindi sviluppo rurale quello di cui mi occupo io c'è uno strumento specifico che è l'insediamento l'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori ne possono beneficiare i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come agricoltori al di sotto dei 40 anni e in questo caso qui si tratta di un aiuto forfettario che può raggiungere un massimo di 70.000 euro e che viene erogato appunto per facilitare l'insediamento quindi nel primo pilastro la durata dell'aiuto dura 5 anni fino a un massimo di 5 anni nel secondo pilastro è un aiuto forfettario una tantum che viene dato per facilitare l'installazione o l'insediamento dei giovani agricoltori questi sono i due strumenti principali ce ne sono degli altri per esempio per lo sviluppo rurale c'è una facilitazione da parte dei giovani agricoltori ad usufruire di aiuti per investimenti produttivi quindi il tasso di sostegno l'aiuto la percentuale sul costo dell'investimento che viene pagato a un giovane agricoltore è superiore a quello che di solito viene erogato agli altri agli altri agricoltori ci sono anche tutta una serie di altre misure nello sviluppo rurale che possono aiutare l'attività diciamo l'inizio dell'attività agricola non so la formazione la consulenza aziendale la cooperazione la possibilità di fare degli scambi di lavorare con altri agricoltori quindi tutto quello che può facilitare un insediamento graduale e l'acquisizione delle conoscenze delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro di agricoltore e questo è importante per lo sviluppo rurale perché lo sviluppo rurale è vero è finanziato finanzia una serie di strumenti di misure ma questi strumenti devono funzionare bene nel loro insieme nel loro complesso quindi se c'è un obiettivo come c'è nello sviluppo rurale di ricambio generazionale poi sta alle autorità che gestiscono i programmi di scegliere gli strumenti giusti di combinarli insieme nella giusta maniera di finanziarli al giusto livello in modo di raggiungere questo obiettivo e qui ancora per lo sviluppo rurale mi sono limitato agli strumenti che diciamo settoriali quelli dell'agricoltura ma ci sarebbe anche da parlare di quello che si fa quello che si diceva prima per aumentare la qualità di vita nelle zone rurali quindi tutti gli interventi a favore delle infrastrutture o anche attraverso altre politiche dell'Unione sui trasporti sulla ricerca e l'innovazione sulla diffusione della banda larga eccetera quindi sono tutte un pacchetto di misure che dovrebbero essere usate che si spera vengano usate nella maniera migliore più idonea in combinazione fra di loro per favorire poi questo obiettivo del ricambio generazionale anche perché facevi l'esempio della banda larga ma la banda larga può servire per attivare tutte quelle tecnologie di cui parlavi prima per utilizzare tutte quelle tecnologie di cui parlavi prima a proposito della visita che hai fatto nell'azienda in Belgio cioè per avere un'agricoltura di precisione basata sui dati digitalizzata ma poi servono anche banalmente al nipotino che va a trovare il nonno che è abituato in città a essere sempre connesso e arriva nel borgo rurale dove probabilmente non c'è la banda larga e questo sembra una sciocchezza ma sono quelle piccole cose che che casomai spingono il nipote in questione a dire vabbè ma lì non ci vado perché sono fuori dal mondo comunque sì al di là di nipote io credo che sia importante anche proprio per il giovane agricoltore per la famiglia essere nelle condizioni e vivere in un posto che offra un livello di vita adeguato quindi qua si parla di infrastrutture di servizi di ospedali di scuole di asili tutto quello che serve a una famiglia per per vivere in condizioni di vita di condizioni di vita normale per questo dico si va quando si parla di ricambio generazionale si va un po' al di là dei singoli strumenti ed è la visione d'insieme che che conta e in questo senso contano anche moltissimo le politiche nazionali ci sono molte possibilità di facilitare o meno l'ingresso in agricoltura attraverso una serie di strumenti che sono al di fuori della competenza comunitaria e che sono gestiti direttamente dagli stati membri la fiscalità le pensioni le politiche sociali eccetera c'è arrivata una domanda da facebook Stefano Berardi dice ma non sarebbe più opportuno finanziare delle piattaforme per delle piattaforme virtuali di vendita dei prodotti cioè parliamo di piattaforma di vendita diretta ecco online se capisco bene cosa intende il nostro ascoltatore ecco per questo tipo di iniziative c'è come dire c'è un canale di sostegno europeo e mi pare che si possa assimilare anche le iniziative per le filiere corte quindi per accorciare le filiere quindi probabilmente nello sviluppo rurale c'è qualcosa ma sì sicuramente ci sono possibilità per questo tipo di finanziamenti ripeto le possibilità sono previste nel menu di strumenti che viene messo a disposizione dalla politica di sviluppo rurale poi dipende da come il regolamento viene recepito a livello regionale e nazionale per vedere se poi i finanziamenti specifici sono stati attivati oppure no la politica di sviluppo rurale prevede la possibilità di finanziare attività per sostenere le filiere corte come ricordavi tu o anche la misura di cooperazione che di cui parlavo precedentemente è una misura che può sicuramente facilitare questo tipo di piattaforme comunque facilita il lavoro congiunto di diversi rappresentanti della filiera agricola quindi l'agricoltore che lavora insieme al distributore al retailer al supermercato qui in Belgio ci sono finanziamenti affinché i supermercati legate nei supermercati cittadine vendano prodotti regionali e con una definizione precisa di cos'è un prodotto regionale con una circonferenza un raggio in chilometri e se il produttore si trova in quella zona appunto c'è la possibilità di avere una vendita diretta quindi saltando le varie tappe della distribuzione quindi evitando i margini della distribuzione una vendita diretta nei supermercati cittadini questo tipo di attività può essere finanziata altrove attraverso i fondi di sviluppo rurale ripeto questo è l'esempio che conosco vedendo qui ma poi ogni regione ogni autorità di gestione nell'attuazione del proprio programma può usare lo strumento a disposizione in maniera diversa in maniera tale da essere adeguata alla situazione specifica del territorio coperto dal programma c'è arrivata un'altra domanda che inoltre da Gerardo Fortuna su Facebook sono previsti incentivi o agevolazioni per giovani agricoltori che vogliono dedicarsi a produrre energia con le biomasse agricole sì ripeto sono previsti io parlo sempre di quello che c'è nel regolamento poi bisogna vedere se quello che c'è nel regolamento è stato recepito a livello del programma e quindi se nella zona l'autorità di gestione che può essere lo Stato ha deciso che quella è un'attività la regione non so quale regione si tratti in Italia ci sono programmi regionali ci sono al di là diciamo ci sono incentivi alla per gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili a prescindere dai giovani agricoltori esistono per il settore agricolo nel suo complesso quindi nell'ambito dello sviluppo rurale sicuramente è una cosa di cui i giovani agricoltori possono beneficiare anche perché come dicevo prima gli investimenti il sostegno agli investimenti nel caso dei giovani agricoltori si fa con dei tassi di aiuto agevolati quindi c'è un ulteriore incentivo da questo punto di vista sempre lo stesso ascoltatore ci chiede cose un po' più dettagliate ancora ovvero questa cosa è una cosa di cui si occupa la parte della commissione che si occupa di energia o è più qualcosa che riguarda l'agricoltura è un'altra domanda ancora se questo sempre dallo stesso ascoltatore se questo utilizzo delle biomasse è visto più positivamente o più negativamente si sa che con le biomasse dal punto di vista dell'impatto sui cambiamenti climatici c'è un po' di insomma si fa presto a dire biomasse in generale ecco forse questo è uno dei problemi sì dunque alla prima domanda risponderei che è una cosa di cui si occupa la commissione quindi che sia la DG agricoltura la DG energie eccetera si lavora insieme parliamo tanto fra di noi anche quello che dicevo prima l'attuazione delle politiche in zona rurali non è solo una cosa della DG agri è un un argomento di comune interesse con altre DG sulla questione sì della trasformazione delle biomasse effettivamente l'argomento è delicato in linea di principio in linea generale c'è lo sviluppo rurale funziona sempre al di là di quelli che sono gli obblighi poi fissati nella legislazione europea quindi gli aiuti esistono nello sviluppo rurale a condizioni che gli standard europei e le leggi europee vengano rispettati quindi diciamo questo è già introduce una una certa rete di sicurezza rispetto alla domanda che pone chi ci segue su facebook allora siamo quasi in chiusura io farei un'ultima domanda perché di recente ci sono state delle piccole modifiche legislative c'è stato un accordo fra la commissione europea il parlamento europeo e il consiglio su una parte di un regolamento che si chiama omnibus stiamo lì a entrare troppo nel dettaglio ma oltre a queste alle misure di cui abbiamo parlato prima c'è qualcos'altro di che cosa si tratta dunque l'accordo di cui fai riferimento è un diciamo fa parte di un pacchetto di modifiche dei regolamenti di una serie di politiche dell'unione tra cui lo sviluppo rurale che avevano l'obiettivo di soprattutto di semplificare l'attuazione dei vari strumenti delle politiche come dicevi tu è un accordo politico quindi non è ancora in vigore ciò che si è c'è stato un accordo per quanto riguarda la parte tra l'altro agricola del cosiddetto omnibus e quindi dobbiamo aspettare ancora qualche mese affinché l'approvazione sia effettiva dal punto di vista di quello che stiamo parlando noi credo che l'omnibus quindi questi cambiamenti che sono stati fatti aiutano hanno permesso di semplificare l'attuazione come obiettivo di semplificare l'attuazione della misura specifica per l'aiuto all'insediamento degli agricoltori ci sono degli accorgimenti dei tecnicismi che vengono cambiati a beneficio diciamo della facilità di attuazione questo per il secondo pilastro quindi non entro nei dettagli ma sono cambiamenti che riguardano la definizione della data di installazione del giovane agricoltore per il primo pilastro ci sono dei cambiamenti che permettono di aumentare la durata del sostegno quindi di assicurare che il sostegno del primo pilastro venga fatto per un periodo effettivo di 5 anni a prescindere dalla data di insediamento dell'agricoltore poi ci sono anche modifiche per facilitare l'uso degli strumenti finanziari nell'omnibus gli strumenti finanziari sono un altro importante strumento a disposizione dell'insediamento del ricambio generazionale perché possono aiutare i giovani agricoltori a superare i problemi di liquidità e di accesso al credito soprattutto nella fase iniziale di insediamento ultima domanda flash perché ci è arrivata adesso siamo in chiusura Alessia ci domanda se è in previsione un programma Erasmus per i giovani agricoltori sì questa è una buona domanda c'è gli agricoltori hanno già adesso la possibilità di beneficiare del programma Erasmus in futuro si pensa si sta lavorando insieme con la DG EAC della cultura per cercare di fare qualcosa di più proprio specifico per i giovani agricoltori però questo fa parte di una serie di iniziative giovani agricoltori Erasmus più anche l'iniziativa cosiddetta di Smart Villages che vanno proprio nel senso di aumentare le possibilità di espansione del sostegno ai giovani agricoltori e non solo e aumentare la possibilità di sviluppo proprio a livello territoriale nelle zone rurali benissimo allora noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione ringraziamo Guido Castellano che ci ha aiutato a orientarci nella politica europea a favore dei giovani agricoltori e ci vediamo la prossima volta con una nuova intervista Facebook Live Agri UE Anza Agri UE grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti